Potrei qui nel principio distendermi lungamente sopra le emulazioni, le invidie, le censure acerbe, le calunnie, le parzialità, le pratiche e i maneggi occulti e palesi contro la tua reputazione e gli altri infiniti ostacoli che la malignità degli uomini ti opporrà nel cammino che hai cominciato, i quali ostacoli, sempre malagevolissimi a superare, spesso insuperabili, fanno che più di uno scrittore non solo in vita ma, e zian Dio dopo la morte, è frodato al tutto dell'onore che esse gli dè, perché vissuto senza fama, per l'odio o l'invidia altrui morto si rimane nell'oscurità per dimenticanza, potendo difficilmente avvenire che la gloria d'alcuno nasca o risorga in tempo che, fuori delle carte per sé immobili e mute, nessuna cosa ne ha cura.